Meglio non poteva cominciare, è il risultato importantissimo e siamo tutti molto felici. Sono contento per la squadra, sono contento per la società, per i nostri tifosi che erano numerosi a vederci, a seguirci, quindi mi fa immensamente piacere per loro e andiamo avanti però, sapendo che non è che abbiamo risolto i problemi, abbiamo messo tre punti in classifica, sono molto felice, stasera gioiremo, festeggeremo, ho detto in sala stampa fino a domani a mezzogiorno, poi dalle due in poi, dall'una in poi, già di domani dovremo pensare al Palermo. Ci prendiamo assolutamente questa festa fino a domani a mezzogiorno, però vogliamo scendere anche un po' nel dettaglio di come è andata la partita perché abbiamo visto i giocatori mettere davvero tutto sul campo, c'era attesa per l'esordio di Turra che si è messo bene in campo in mezzo come regista, anche se magari con caratteristiche diverse rispetto a Ghierme, ma anche un Bruno Fernandes veramente molto grintoso, tanti singoli che si sono messi in luce questa sera. Ma se vieni a giocare allo Juventus Stadium e non fai una partita di grande spessore dal punto di vista caratteriale, difficilmente porti a casa qualcosa. La squadra ha dimostrato grande compattezza, grande orgoglio, grande voglia di lottare sogni e pallone. Hanno rincorso, hanno pressato, hanno sudato, ci siamo riproposti, ci siamo ripartiti. Una partita tra squadra, ripeto, sarebbe mancata una di queste cose sicuramente non avremmo fatto punti, invece l'hanno fatto bene. L'ultima domanda che le faccio, era stata preparata proprio così, cioè con un primo tempo, se vogliamo, un pochino attendista e poi una seconda frazione anche con l'ingresso di Zapata con più ripartenze? No, nessuno voleva, io non avrei soffrire, non piace a nessuno. Però sapevamo che la Juventus sarebbe partita forte e quindi il compito era limitare magari i danni nell'inizio roboante della Juventus e devo dire che l'abbiamo fatto, perché poi onestamente il Paratone, il nostro portiere, non è che ne ha fatte. Certo abbiamo subito un predominio territoriale, ma allo Juventus Staglio ancora devo vedere una squadra che viene qua e detta legge e noi sapevamo che sarebbe stata così, però siamo stati bravi a difendere. E c'è orgoglio per aver battuto la Juve dopo due anni e mezzo, che non perdeva in casa in Serie A, direi. Sì, sì, ma guardi, più che queste cose che riguardano la statistica, a me fa piacere per la squadra, per la società, ripeto, per la gente, perché ci voleva una vittoria così importante. Dà sicuramente positività e fiducia per il futuro. Meglio non poteva cominciare, è il risultato importantissimo e siamo tutti molto felici. Sono contento per la squadra, sono contento per la società, per i nostri tifosi che erano numerosi a vederci, a seguirci, quindi mi fa immensamente piacere per loro. E andiamo avanti però, sapendo che non è che abbiamo risolto i problemi, abbiamo messo tre punti in classifica, sono molto felice, stasera giocheremo, festeggeremo, ho detto in sala stampa, fino a domani a mezzogiorno. Poi dalle due in poi, dall'una in poi, già di domani dovremo pensare al Palermo. Ci prendiamo assolutamente questa festa fino a domani a mezzogiorno, però vogliamo scendere anche un po' nel dettaglio di come è andata la partita, perché abbiamo visto i giocatori mettere davvero tutto sul campo. C'era attesa per l'esordio di Turra che si è messo bene in pallone. Hanno rincorso, hanno pressato, hanno sudato, ci siamo riproposti, ci siamo ripartiti. Una partita tra squadra. Ripeto, sarebbe mancata una di queste cose, sicuramente non avremmo fatto punti. Invece l'hanno fatto bene. Ultima domanda che le faccio, era stata preparata proprio così, cioè con un primo tempo, se vogliamo, un pochino attendista e poi una seconda frazione anche con l'ingresso di Zapata con più ripartenze? No, nessuno voleva, io non avrei soffrire, non piace a nessuno. Però sapevamo che la Juventus sarebbe partita forte e quindi il compito era limitare magari i danni nell'inizio roboante della Juventus e devo dire che l'abbiamo fatto, perché poi onestamente un paratone in nostro quartiere non è che ne ha fatte. Certo, abbiamo subito predominio territoriale, ma campo in mezzo come regista, anche se magari con caratteristiche diverse rispetto a Ghierme, ma anche un Bruno Fernandes veramente molto grintoso. Tanti singoli che si sono messi in luce questa sera. Ma se vieni a giocare alla Juventus Stadium e non fai una partita di grande spessore dal punto di vista caratteriale, difficilmente porti a casa qualcosa. La squadra ha dimostrato grande compattezza, grande orgoglio, grande voglia di lottare sogni.